E allora adesso la parola per l'ultima relazione a Stefano Carrai, quindi OBI e letteratura italiana. Grazie. Sì, dunque io sono molto lieto di essere qui appunto a portare la voce della letteratura o diciamo dello storico della letteratura in questo convegno per il trentennale dell'OVI. E mi spiace non essere stato presente ieri, ma ero trattenuto a Siena da impegni da cui non potevo liberarmi. Ora, per il modo che ho di intendere lo studio della letteratura in stretto rapporto con la storia della lingua e con la filologia, è inevitabile che qualche sovrapposizione con i discorsi fatti già dagli amici Tavoni e Ciociola ci sia, insomma. E mi scuso anche di un'altra cosa, che farò riferimento in gran parte a mie esperienze di lavoro, farò anche un po' di autobiografia. Ora, questo non è assolutamente per narcisismo, ma per amore di concretezza. Comincio subito a dire, no scusate, faccio anche una breve parentesi perché mi è venuta in mente una leve precisazione che vorrei fare a margine dell'intervento di Mirko. È vero, i letterati italiani, italianisti fanno poco ricorso forse alla banca dati OVI e al Clio. Questo però si deve anche al fatto che, ed è un discorso che è meglio non affrontare qui perché ci potrebbe troppo lontano, al fatto che, naturalmente questa è una banca dati che ha scelto come limite cronologico basso il 1375. Ora, ahimè, i miei colleghi in genere limitano il loro raggio d'azione all'8-900. Quindi questo purtroppo è, secondo me, una stortura, vero? Ma è una stortura che, ahimè, spiega questo fatto. Comunque, dicevo, parto da una considerazione che la base dati testuale dell'OVI incide nel lavoro dello storico della letteratura soprattutto per quel che riguarda la pratica del commento. E quindi anche il commento è un lavoro, diciamo, liminare di confine tra storia della lingua, filologia, quindi anche per questo, insomma, in qualche modo, qualche sovrapposizione con i discorsi precedenti ci sarà. Ma, dicevo, il commento si faceva in un modo tutto diverso prima dell'OVI. E io sono forse, la mia generazione, diciamo, è forse l'ultima che ha sperimentato un modo di fare i commenti assolutamente artigianali. Quando lavoravo, ormai 40 anni fa esatti, all'edizione e commento dei sonnetti di Maestro Rinocino da Firenze, io ho cominciato facendo schedine manuali, leggendomi naturalmente tutta la poesia del 200, schedandola, molta prosa, e ricordo che tra noi laureandi circolava questa battuta, che i commenti si facevano ricchi e a volte veramente anche eccessivamente ricchi quando si trattava di chiusare voci che arrivavano fino alla lettera M, perché allora il grande dizionario della lingua italiana arrivava fino alla lettera M. E poi dopo, sì, c'era il vocabolario della Crusca, certo Masseo Bellini, ma, insomma, davano meno luoghi paralleli, quindi si poteva rimpolpare meno il commento. E quindi si facevano commenti del tutto artigianali, facendo queste schedine manuali. Io cominciai, feci una prima spolverata, diciamo, di commento in questo modo, poi Rosanna Bettarini, che non era relatrice della mia tesi, perché io mi laureai in letteratura italiana, e quindi il relatore era Martelli, ma lei fu una correlatrice estremamente attiva, mi disse, beh, dopo aver visto questa prima versione, dice, ora però lei vada alla Crusca, parlo io con Avalle e lui le farà consultare i tabulati delle CLPO e lei così trova alcune spiegazioni che ancora non sono chiare, trova altri luoghi paralleli per incrementare il commento. Quindi nel 77 feci il primo ingresso in questa villa e Avalle mi sbolognò subito a Minetti, il quale mi metteva in una sorgezione terribile, perché non capivo quasi niente di quello che mi diceva, perché parlava come scriveva. Minetti però mi mise alla scrivania accanto a quella di Frei Anceschi, accanto io avevo un carrello metallico con tutti i tabulati in continuo, che non si consultavano tanto bene, ma insomma comunque in quel modo io integrai questo commento, diciamo, tipo proprio artigianale, appunto, già con un primo ausilio di tipo informatico, perché da quei tabulati ricavai molti esempi che mi erano sfuggiti leggendo le edizioni diplomatiche o semidiplomatiche degli antichi canzonieri, e così via, insomma, rimpolpai questo commento, quindi già con un aiuto, insomma, dell'elettronica. Avevo naturalmente, questo lo devo dichiarare, un grande modello, che era il modello del commento, edizione e commento delle rime di Chiaro d'Avanzati, fatto da Menichetti, e quindi in questo modo, insomma, feci questa edizione critica e commentata dei sonneti di Maestro Nelucino, che poi, la mia tesi fu discussa nel 78, e uscì nei quaderni degli studi di filologia pubblicati dall'Accademia nell'81. Ma da allora è cambiato ovviamente tutto, e quando una trentina di anni dopo sono tornato a commentare testi duecenteschi, esisteva finalmente questa splendida banca dati che mi ha permesso di fare controlli straordinari, perché intanto dai tabulati in continuo non si facevano controlli incrociati, si doveva cercare parola per parola con quel che c'era, quindi è già questo, naturalmente, è un ausilio strepitoso. Per l'edizioncina della Vita Nova che ho fatto, devo dire che la banca dati Ovi mi è servita più che altro sul piano della restituzione formale del testo, non tanto del commento, perché lì il lavoro di commento era più che altro un lavoro di sfrondamento dei commenti precedenti, e soprattutto quello di Domenico De Roberti, naturalmente dove c'era già tutto, si trattava solo di sforbisciare. Invece per il testo le ricerche sulla banca dati Ovi sono state fondamentali, perché io mi ero messo in testa di non accettare la soluzione al problema della lingua, insomma, della Vita Nova, data da Barbie e poi da Gorni in maniera molto diversa, ma insomma in entrambi i casi contaminando testimoni diversi, mi ero messo in testa che la cosa migliore, come del resto aveva già indicato Paolo Trovato, era fondare la restituzione linguistico-formale tutta su un solo codice, la scelta era anche molto facile, perché il chigiano dell'ottavo 305 era non solo il più antico, ma il più autorevole, si trattava però di capire, e a volte non era semplice, quale lezione fosse sicuramente una forma plausibile e quale lezione potesse essere uno svarione del copista. Nel caso di semplici, cercando con Lovi, si trovano forme del genere in altri testi duecenteschi e quindi è una lezione da accettare e quindi cambiando, diciamo, il testo sia Barbie sia Gorni. Ma per una lezione come Pelagrafi, che molti avevano detto deve essere una deformazione demotica del grecismo, culto, paragrafi, e lì io ho ragionato così, se trovo un'altra attestazione di questa parola, allora vuol dire che è una forma accettabile, ma se non ce ne sono altre devo mettere paragrafi come hanno gli altri testimoni. In effetti Pelagrafi non esiste nella banca dati Ovi e quindi l'ho dovuto considerare un errore di copista, salvo prova contraria naturalmente che è sempre possibile. Se esce un altro Pelagrafi o Pelagrafo allora andrà ripristinato, ma in caso contrario no. Ecco, invece, devo dire che un aiuto decisivo al commento la banca dati Ovi me l'ha dato per una edizione commentata ma anche qui con revisione del testo delle poesie di Brunetto Latini che uscirà tra pochi giorni per Einaudi prevista appunto per gennaio e qui devo dire che davvero insomma per il commento me ne sono avvalso moltissimo perché tra l'altro la tradizione di commenti al tesoretto era veramente esigua nel senso che il commento Contini è così aristocratico che spiega insomma poco o nulla. Altri commenti insomma ci sono ma spesso non affidabili quindi lavorare fare ricerche quasi parola per parola ha dato veramente risultati notevolissimi credo e allora vorrei qui proporvi un aspetto diciamo del lessico di Brunetto che mi sembra sia emerso che naturalmente ci si poteva aspettare ma grazie a queste ricerche sulla banca dati ora è documentabile in maniera credo molto concreta e naturalmente tenendo presente questo lo voglio ricordare tenendo presente anche il fondamentale libro sui gallicismi già ricordato di Roberta Cella allora il lessico del tesoretto mi è apparso grazie appunto al controllo sulla banca datiovi in tutta la sua originalità originalità notevolissima direi nel campo proprio della lingua poetica del 200 comincio con un latinismo che è Esavia al verso 535 riuscite a leggere sì al verso 535 ora Ipsavia è un sintagma molto frequente nelle opere di Sant'Agostino qui Esavia è nell'accezione di immediatamente e l'unico altro esempio accostabile è la resa di Ruggeria Pugliese in Isavia con costruzione preposizionale in Isavia ma come è anche in latino c'è la doppia possibilità dell'ablativo assoluto oppure con la preposizione quindi già questo è un primo minimo tassello ma se entriamo appunto nel campo dei gallicismi accanto al vario armamentario ovvero proprio di quelli più consueti nella lingua poetica del 200 vedete usaggio convenente benenanza sottiglianza sembianza fallenza immantenente semmana sicuranza venganza eccetera perché ce n'è una quantità veramente notevolissima però mi sembra che ci sia una serie nutrita di francesismi piuttosto ricercati che naturalmente in brunetto ci si potevano aspettare ma intanto le ricerche sulla banca dati consentono di documentarlo in maniera in maniera sicura intanto vedete a civire portare a termine al verso 663 altri esempi duecenteschi in una canzone despota del vaticano 3793 nel tesoro olgarizzato e poi zucchero benciveni novellino binduccio dello scelto giovanni villani e altri trecenteschi a vantaggio come a civire non è non è un gallicismo diciamo rarissimo un francesismo rarissimo però già dall'idea siccome non è così vero frequente dall'idea comunque di una certa ricercatezza del lessico del poemetto a vantaggio nel senso di superiorità si trova due volte nel tesoretto versi 1692 e 1730 la banca dati dà altri esempi duecenteschi nel fiore ben due impuccio bellondi bonvesin volgarizzamento di egidio romano e poi i testi di carattere pratico fiorentini lucchesi e senesi i due esempi nel fiore sono mi sembra abbastanza interessanti perché come sapete insomma il fiore di francesismi abbonda per ovvie ragioni ma a parte questi due che sono diciamo francesismi abbastanza ricercati però insomma comunque attestati più volte c'è anche Cajera al verso 2260 sedia scranno qui Contini Chiosa mantiene a testo il CH in Cajera e Chiosa dicendo che l'autore avrebbe mantenuto anche il digramma iniziale della parola francese ora questo io francamente non credo molto perché poi nel codice ricardiano che è il testimone base di velari scritte col CH ce ne sono tante insomma cosa a casa quindi credo che vada riportato insomma che l'H sia appunto un fatto proprio grafico di copista e quindi ho pensato di toglierla tutto sommato anche perché oltre ai due esempi due scenteschi nel libro dei sette savi che però sono nella forma Cajera e Ciatera però molte attestazioni di Cajera e in quel caso senza a volte sì ma per lo più senza il digramma iniziale CH sono nel volgarizzamento fiorentino trascentesco della storia del San Gradale poi anche corteseggiare non è non è diffusissimo vero dal francese Courtoisier secondo Lino Leonardi nel commento all'esempio duecentesco in Guittone che ho registrato secondo Roberta Scella potrebbe essere invece un de aggettivale ma comunque in questo caso importa poco il significato è comportarsi secondo le regole della perfetta cortesia appunto unico altro esempio duecentesco è Guittone quindi già questo ci dice della ricercatezza della scelta lessicale e poi qualche altro esempio trecentesco Neri Moscoli Antonio Pucci Donato Velluti e nel Cantare del Bergerardino abbastanza significativo è anche il francesismo Covitisa c'è anche nel Tresor Convoatis e per Cupidigia al verso 2744 ci sono analoghi esiti duecenteschi ma non sono moltissimi in Zucchero Bencivenni Covitigia e Covotigia Volgarizzamento di Egidio Romano Convoitigia Libro dei Sette Savi Covitigia Nei Fatti di Cesare Conventigia e Convotigia e poi nel Trescento altri anche Lavorero nel senso di Fatica è piuttosto raro al verso 609 e qui le attestazioni sono soprattutto dell'Italia settentrionale testi veneziani il panfilo veneziano il volgarizzamento veneziano ed istica Catonis e poi testi pratici bolognesi fra due trecento ai primissimi del trecento un caso nella vita di San Petronio bolognese e poi altri esempi successivi anche triare senso di discernere è un francesismo abbastanza ricercato c'è un caso particolarmente interessante nella canzone ad espota benaggia all'amoroso e dolce core che nel Vaticano 3793 è la canzone responsiva di Donne Cavete di Dante la nostra donna Tria e poi un altro caso di Tria in Dino Frescobaldi nel tesoro volgarizzato e poi altre forme triato triate in Zucchero Benciveni nell'intelligenza finisco questa serie con Usoriere ah ma scusate non ho fatto scorrere non ho fatto scorrere finisco questa prima serie con Usoriere dove c'è appunto suffisso francesizzante al verso 2789 è l'unica attestazione che io ho trovato nell'Ovi in questa forma però ci sono usurieri usuriere usurieri quindi già da questa prima serie credo che si possa dire che Brunetto introduce o comunque probabilmente in alcuni di questi casi introduce perché l'attestazione che è nel tesoretto è la più antica introduce dei francesismi nella lingua poetica italiana certamente lo si può dire negli altri tre casi che seguono corsaggio nel senso di busto e per estensione corpo al verso 247 non ho trovato nessun'altro nessun'altra attestazione cercando nella banca dati Ovi mi sconto sbaglio il conto al verso 1321 anche qui unico esempio quello del tesoretto e poi il sintagma gallicizzante al mio vidente analogo al mio parvente che è ben più ben più frequente ma al mio vidente lo trovo soltanto in Brunetto verso 1104 del tesoretto e anche verso 29 della canzone Se ho son distretto innamoratamente due soli casi ma tutte e due in poesie di Brunetto quindi a maggior ragione si può dire che Brunetto ha fortemente innovato in direzione appunto dei gallicismi la lingua poetica del suo poemetto e quindi della poesia italiana del duecento ma diciamo questa ricercatezza del lessico non riguarda soltanto francesismi e più in generale gallicismi perché anche il sicilianismo proprio sicilianismo poetico linga in rima che deriva sicuramente dalla canzone meravigliosamente del notaio in rima con singa è in rima anche nel tesoretto verso 46 dalla banca dati risultano soltanto altre due attestazioni una sola duecentesca in ciolo dalla barba di Pisa anche lì in rima anche se in rima al mezzo e poi secolo successivo ma sempre per sicilianismo diciamo per artificio poetico nel perugino Cucco Baglioni e comunque ci sono altre voci rare e espressioni peregrine che caratterizzano la lingua del poemetto vedete per esempio compiglia nel senso di abbraccia unico altro esempio duecentesco è nel volgarizzamento primo trecentesco scusate non duecentesco primo trecentesco volgarizzamento dei remedia a Moris Ovidiani e poi ricompare nel dottrinale di Jacopo Alighieri gengiovo per zenzero che più tardi nel trecento è abbastanza attestato fino a un esempio nel Decameron ma nel duecento risulta unica attestazione quella del tesoretto e poi ingolar per ingoiare unico esempio unico altro esempio che compare dalla banca dati è nella declarazione di guido da Pisa ingola poi c'è la forma ingollare ma molto più tardi e poi anche semente che al verso ventidue del tesoretto per la verità è ricostruito da Contini ma in maniera inoppugnabile nel senso di fallisce viene meno e poi c'è nel favolello invece questo è proprio di tradizione somente al verso sei del favolello gli altri esempi duecenteschi sono tutti settentrionali anonimo genovese panfilo veneziano distica catonis bonvesin però questi nella nella forma desomente altre espressioni peregrine per cui veramente non ho trovato grossi riscontri che almeno che spiegassero è al verso 2640 hai orlato il cappello secondo la Bate Zannoni nell'edizione dei primi dell'ottocento significa hai preparato macchine ed insidie potrebbe essere però anche nel senso di hai detto male hai spettacolato oppure anche hai blandito e comunque grazie all'Ovi sono venute fuori due due sono venute fuori due luoghi paralleli nella ballata senese del 1321 De Contin torna in campagna bent'annorlato il cappello giudice e cavalieri messo tanno in tal zimbello e ragazzi e brivieri si capisce che il valore è fortemente negativo non è chiarissimo appunto potrebbe essere che i giudici e cavalieri ti hanno insomma conciato per le feste quindi ti hanno preparato macchine ed insidie potrebbe andare il significato sinceramente non mi è chiarissimo però quantomeno si può documentare che sono espressioni attestate che hanno che hanno altre occorrenze anche nel centiloquio di Antonio Pucci e comunque anche qui risulta essere Brunetto il primo ad usarlo ad usare hai orlato il cappello e così presta a un zino qui il significato invece è chiarissimo evidente presta per insomma per uncinare per poi chi usufrisce del prestito diventa insomma quasi prigioniero di chi ha prestato quindi presta a grande interesse diceva la Bate Zannoni ciccuto a usura come ad arpionare il malcapitato bisognoso e questo va bene però in questo caso prestare a un zino o a un cino non l'ho trovato da nessuna parte anche nella banca dati Ovi e questo è l'unico esempio quindi dico grande originalità nella scelta lessicale di Brunetto nel suo tesoretto però questa grande originalità crea anche qualche problema di interpretazione e anche di affidabilità del del manoscritto ricardiano perché vedete questi due casi la parola Drugomene al verso 1009 è in abbinamento con i cammelli per cui tutti dicono sempre dromedari dromedari però Drugomene questo è proprio un apax non esistono altri esempi e nel tresor la forma è dromedar dormander quindi non so come si possa arrivare a spiegare a giustificare Drugomene quindi mi chiedo e qui non so dare risposta e neanche appunto le ricerche nell'Ovi mi danno una risposta potrebbe essere anche un errore del copista e qui non 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 si risolve il problema e poi l'ultimo caso che vi presento è il verso 2593 dove c'è gran matesia però naturalmente nella scrizione del copista è univerbato tant'è che Contini paragonando ovvero la testimonianza del Ricardiano gran matesia con gran matesia dell'Aurenziano Storsiano 146 congettura un gran matesia che però non è attestato non è minimamente attestato gran matesia e Contini lo interpreta congetturalmente come alterigia io ho tentato di invece difendere gran matesia quindi dividendo le parole ma resta un problema perché di matesia non ci sono occorrenze e quindi resta il dubbio se sia una forma plausibile alternativa a mattezza che vedete c'è nel tesoretto al verso 2012 quindi 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 un altro modo di dire stupidaggine sciocchezza oppure se non sia una corruzione del copista di una forma batteria che è attestata ripeto questo grazie alla banca dati lo posso dire sia nel convivio di Dante sia nel fiore di virtù più tardi ecco ma tutto ciò quindi mette in luce un aspetto culturale nella scelta delle parole di brunetto poeta naturalmente allo storico della letteratura interessa anche questo perché naturalmente è un elemento dello stile ma forse ancora di più interessa vedere riuscire a vedere dei rapporti culturali di dipendenza di influenza quindi insomma quelle che qui nei miei appunti ho chiamato filiere culturali allora si possono vedere sia all'indietro nel caso che vedete qui riguarda una canzone del notaio Giacomo Dallentini benvenuto prima Cordoglienza e sia invece in avanti cioè nell'influenza che può aver avuto su altri poeti e naturalmente sul grande allievo Pupillo Dante Allora nel caso del notaio mettendo insieme questi due questo francesismo sorcudanza che si ha verso 583 nel senso di tracotanza che si trova anche nel bestiario moralizzato di Gubbio nella forma sorcoitanza ma soprattutto ritengo che Brunetto avesse presente appunto Giacomo Dallentini il verso 31 della canzone benvenuto prima Cordoglienza tra un attimo dirò perché mettendo insieme questo con il sintagma troppa sicuranza eh nel senso di eccessiva sicurezza al verso 1637 ritengo che si possa ipotizzare che entrambe entrambe queste sia il francesismo sia questo sintagma galicizzante vengano da questa canzone del notaio cioè che Brunetto abbia letto cosa del resto che non stupirebbe nessuno questa canzone e l'abbia memorizzata e se ne sia ricordata in un paio di punti di luoghi del suo poemetto perché naturalmente mi sembra un'ipotesi plausibile che dal precedente siciliano eh derivino due due prestiti due reminiscenze nella nella scrittura di Brunetto però ecco c'è anche il caso di Guittone qui naturalmente adesso vi presenterò due contatti tra Tesoretto e due opere di Guittone qui la cronologia non aiuta molto perché non si può stabilire in base ad una cronologia chi venga prima e chi venga dopo quindi chi influenzi chi però trapassamento nel senso di oltraggio che è al verso 458 del Tesoretto è anche dunque e dico che si trova in un brano che vedete riportato in cui si parla del peccato originale e si trova anche in una lettera di Guittone dove si parla pure del peccato originale l'otrapassamento del primo nostro parente quindi l'oltraggio l'oltranza l'esagerazione nel peccato di Adamo e poi vedete Sodus che è al verso 479 sempre in un lungo brano del Tesoretto in cui si parla appunto di Adamo ed Eva si ritrova Sodus grazie alla banca dati dell'Ovi si può dire che trapassamento è soltanto in Tesoretto e lettere di Guittone Sodus è soltanto in Tesoretto e la canzone di Guittone altra fiata ha già già don parlato pure in un contesto che parla appunto del peccato originale col serpente infernal che sodusse Eva allora mi sembra più probabile che da un unico luogo del Tesoretto in cui si parla del peccato originale siano partiti due prestiti in testi ben diversi insomma prosa e poesia di Guittone piuttosto che per pensare Brunetto abbia messo insieme due reminiscenze di Guittone entrambe certo sul peccato originale quindi non è da escludere al cento per cento ma siccome poi la filologia e la storia della letteratura riguardano ciò che è probabile però più che ciò che è possibile mi sembra più probabile che qui sia stato Brunetto a influenzare Guittone magari Lino invece avrà una spiegazione diversa ecco e poi chiudo con il caso di Dante il caso di Dante naturalmente tutti noi abbiamo in mente il quindicesimo dell'inferno dove a un certo punto Dante parla degli argini quindi insomma di queste barriere che a Guittone e Brucia si sono erette contro il mare ma non dice dice esattamente temendo non dice contro il mare dice temendo il fiotto che in Verlors avventa dove fiotto significa l'ondata di marea che possa vero invadere la terraferma quindi si sono fatti questi argini queste dune di fatto che bloccano la marea ora questa voce fiotto è sempre grazie alla banca dati ovi risulta attestata anche nei fatti di Cesare e nell'esposizione del paternostro di zucchero bencivenni ad onor del vero ma a parte questi due altri testi risulta attestata nel nel quindicesimo dell'inferno e al verso 1042 del tesoretto e la gente per motto di con canome fiotto l'ondata di marea che poi riecheggia il tesor vero la mer osean fe sel flot e qui direi che si può facilmente vero concludere che nel in quella testura così ricca e consapevolmente programmaticamente ricca di riecheggiamenti brunettiani naturalmente per omaggio all'antico maestro qui nei commenti naturalmente sono tutti o quasi tutti registrati e Dante abbia voluto o si sia ricordato anche di questa voce rara rarissima fiotto per dire la spinta l'onda della marea e l'abbia fatta propria quindi naturalmente sono tutte diciamo filiere culturali che si potevano facilmente supporre però le ricerche che la banca dati dell'OVI consente lo possono far dire con estrema sicurezza vi ringrazio bene grazie l'ora è un po' tarda ci consentiamo magari vediamo se ci sia qualche intervento io intanto volevo dire che anche a me era capitato un altro lavoro che ho insolato appunto il lessico fondante del tesoretto di Brunetto latino di osservare questa fondazione di un lessico anche in altri settori per esempio per la denominazione di alcuni elementi della natura del bestiario delle piante e senza l'aiuto del clio questa ricostruzione sarebbe stata impossibile invece volevo aggiungere qualche cosa a quello che aveva detto poco fa Mirko i dati indubbiamente dicono sempre qualche cosa a me sembra che proprio dalle cose che tu ricavi sulle consultazioni da parte di storici della lingua linguisti filologi vadano sempre nella direzione insomma nell'auspicio prima o poi di abbattere finalmente questi steccati che poniamo tra le discipline e i settori scientifico disciplinari sono un'invenzione tutta italiana per motivi molto poco nobili del tutto legati all'accademia all'università ma gli studi gli ambiti scientifici sono e dovrebbero essere privi di questi confini di questi steccati forse grandi possiamo forse fare grandi decisioni divisioni fra italianisti francesisti questo avrebbe più un senso ma mi sembra che poi dividere tra gli storici della lingua o quelli di letteratura italiana o i filologi abbia sempre più impoverito i nostri studi tanto più per andare incontro a quello che diceva Carrai che quasi sempre questo continuare a dividere è sempre andato a favore della contemporaneità come se poi per andare verso il contemporaneo bastasse cambiare l'oggetto di studi e appunto occuparsi appunto dell'otto novecento è quello l'unica l'unica svolta essenziale laddove a me personalmente ultimamente mi sto occupando spesso di testi oratoria e lessico del primo cattolicesimo sociale del migliore quello che nasce dopo la reum novarum quindi toniolo sturzo ma per riuscire a capire il significato politico o anche l'eventuale deterioramento semantico subito da alcuni di questi termini è indispensabile io consulto il trio pensa un termine adesso non ricordo se fosse questo per il quale avevo consultato il trio ma corporazione ha tutta una storia che appunto dal medioevo fino poi al fascismo subisce una serie di cambiamenti senza riuscire a comprendere anche la storia e a indagare sull'origine medievale di tutto questo francamente il contemporaneo rimane polveracosa io probabilmente dico una banalità ma insomma forse mi do anche la zaffa sui piedi visto che sono presidente di un'associazione di settore non dovrei dire queste cose però sono veramente divisioni fittizie e la problema degli storici dei pochi storici medievali che per fortuna consultano il trio è un grosso problema perché la nostra storiografia si sta sempre più disinteressando della lingua delle forme delle parole dei testi che gli storici studiano come se fosse un orpello o qualcosa del tutto secondaria rispetto al fatto che loro vogliono ricostruire ma non c'è niente di più sbagliato non so che cosa probabilmente quello che tu dici forse fornigli degli strumenti più amichevoli per usare un calco dall'inglese potrebbe essere una una via utile i dizionari sono un documento della storia il dizionario secondo me è la prima documentazione della storia e questa ancora una volta questa separazione mi sembra che non ci avvantaggi e infine un'ultima cosa vedevo invece con piacere è vero quello che tu dici ma vedevo con piacere che ci sono anche consultazioni del Tlio e del Corpus per i lavori dei sintassi si diceva questa mattina mi sembrava Larsson lo dicesse che il Tlio ovviamente offre poco sul piano della morfosintassi o insomma anche non solo della morfosintassi della sintassi e della testualità tuttavia c'è una prospettiva mi pare di capire di lavoro per riuscire a fornire anche dei dati aggiuntivi ma anche per questo tipo di studi è uno strumento senza il quale difficilmente si riesce a ricostruire una ricerca sintattica che sia veramente fondata appunto sulla testimonianza e sul testo anche un po' per cercare di come dire incrementare forse questo tipo di studi che nel nostro settore adesso ritorna ai settori disciplinari si sta un po' spegnendo che stiamo un po' abidicando ad altri stiamo assegnando ad altri va bene non aggiungo altro c'è qualcuno del pubblico che vuole intervenire naturalmente sulle due relazioni di Tavoni e di Carrai perché Ciocciola non può rispondere nessuno prego Tullio non c'è bisogno che tu chieda permesso storici il problema sono gli storici medievali sono gli storici medievali sono gli storici medievali un piccolissimo campione prima di parlare con Leonardo e andare a Parigi diciamo andare telematicamente a Parigi in questo caso e ho provato a chiedere a alcuni amici colleghi storici medievali che cosa pensavano del Ducage dell'edizione della possibilità di un rovesciamento del Ducage insomma non dico che non sapevano di che cosa stavo parlando proprio ma e il problema è molto più generale perlomeno nella bibliografia Barbaro Sabatini temo di insomma qualche volta mi è capitato di dire in prefazioni di libri ma insomma se gli storici si occupassero un po' anche gli storici italiani eh attenzione non i tedeschi non i britannici nemmeno alcuni almeno grandi storici francesi sapessero che le persone parlano convergono divergono si creano lingue muoiono lingue e insomma è che questo ha a che fare con la storia non è raro trovare qualche nostro collega storico storico della società della politica della cultura che si ricordi che esiste una storia linguistica una storia delle lingue e quindi un problema generalissimo per cui questo va a difesa in qualche modo dei pochi storici del fatto che siano pochi gli storici che consultano il Tio non consultano neanche il Battaglia e non consultano migliorini non sanno bene chi sia e e e poi ho sentito ehm da Carrari e qui proprio veramente mi vergogno insomma fuori verbale eh fuori verbale però io come qualcuno ha avuto la pazienza di sentire quello che ho raccontato ieri contavo parole per vedere prime attestazioni eh grazie a Tlio per fin erano 27.000 28.000 le voci che potevo vedere di Tlio quindi per retrodatare grazie a Tlio e per il resto erano le datazioni eh sì anche del Gradit posso dire ma fondamentalmente del Battaglia quelle di cui mi rifacevo contavo parole e poi volevo vedere le parole presenti in Dante non necessariamente se non raramente come prima attestazione in questo lavoro e io mi sono accorto che la scritta che c'è qui la lingua italiana come dice intorno no intorno a Dante Petrarca Boccaccio peccava di qualche omissione di due omissioni che tu che lei chiedo scusa tu hai evocato ripetutamente il un principe delle prime attestazioni di parole di quelle che interessavano me quindi una cosa grossolana ma di parole sopravvissute nell'uso attuale sono Brunetto Latini e Jacopone io oserei dire superiori a Dante come primi attestatori e forse andrebbe scritto la lingua italiana anche intorno a Jacopone anche a altri ma insomma da questo punto di vista c'è un filo importante di sopravvivenza di parole che appaiono per la prima volta in Brunetto e qualche volta anche in Jacopone è che ci capita di dire riprese o no in genere riprese vabbè in genere riprese da Dante bisogna ammettere grazie